A Torino, ho pensato di fare un quadro dedicato a Torino. Sono venuto a posto e ho fatto un quadro un po' particolare. Questo è un po' concettuale, nel senso più concettuale degli altri. A parte che ho usato una tecnica di colori molto particolare, ma ho avuto una Torino storica, storica di qua. Però ho levato le montagne, che sono il contatto che c'è stato storicamente tra Torino e la Francia. La grande influenza della Francia su Torino e il grande amore di Torino per la Francia è più che vero. Non ci sono più. C'è invece una ragazza, con una mia amica, che si chiama Stefania Marchionna, che ha la faccia, secondo me, più fantastica per dimostrare come una ragazza pugliese, che potrebbe essere iraniana, che potrebbe essere libanese, insomma una faccia mediterranea, che il fotografo si stessa, includendosi a Torino, perché lei ormai è un'altra anima di Torino. Torino non è più soltanto la Francia, le Dolomiti, e la cosa non è diventata anche il contatto con il sud e questo la rende ancora più bella. Certo, c'è il meticciamento. Il meticciamento.